Benvenuti a questa diretta di Stampa e Vangelo, la diretta di oggi venerdì 8 di aprile del 2017, il giorno in cui ci ritroveremo ad Alessandria per l'iniziativa con gli amici del Popolo e la Famiglia che ad Alessandria fanno la lista elettorale del Popolo e la Famiglia. Fatemi salutare i primi che arrivano in diretta di sabato mattina, Stefano Sigali, Alex Zino Finori, Giovanna Arminio, Lorenzo Casi, Giovanni Marco Tuglio, fatemi salutare tutti voi, chi c'è qui? C'è un ospite? Vuoi venire a fare un saluto? Veni a fare un saluto agli amici in diretta, vieni, vai, bacetto, ciao! Ciao a tutti, bella di papà, bella di papà, saluta tutti gli amici, va bene, dai, ciao! Un saluto da Clara, Mirko De Carli, Marco Grazioli, Barbara Moi, Prisca Vegni, Vladimiro Campello, Anna Russo, buongiorno a tutti voi per questa che è l'ultima diretta che faremo prima della Settimana Santa, perché nel periodo di Settimana Santa, come sapete, noi non andremo in diretta con Stampevangelo e neanche la croce esce, ci prendiamo una settimana per partecipare ai riti della Settimana Santa e riflettere su tutta la nostra attività. Un saluto a Matilde Angioletti, Angela Blandamura, Marco Antonio Doribeni Piva, ecco Mirko De Carli, Clara, sto facendo la diretta, fa la brava, su! Mirko De Carli viene da Torino, dove ieri c'è stata l'iniziativa del PDF di Torino, oggi sarà a Parma, poi a Civitanova Marche, un saluto a Giuseppe Focone, PDF Napoli, ecco Sara Deodati, ieri protagonista del forum sociale del Popola Famiglia a Roma a Via Quasimodo, un grande successo, un lavoro svolto con grande dedizione al PDF Roma, con la partecipazione anche di Nicola Di Matteo, saluto a Maria Marroso, Vincenzo Lelli, ecco Ninnarello, Marco Fasulo, Milena Brindisi Trabona, Enrico Marotta, buongiorno a tutti, Clara, sto facendo la diretta, è dura, il sabato mattina è dura, parleremo anche di bambini oggi, quindi insomma è una diretta che ha a che fare anche con l'infanzia, quindi perdonate l'invasione di campo di Clara, guarda ti salutano anche Luciana Frangioni, Isabella Emeri, Stefano Sigali, ti salutano tutti, vieni a fare un saluto, un ultimo saluto poi vai con la mamma, No, io non vado da nessuna parte, non vado da nessuna parte, devi andare adesso, come si, devi andare da Katia, no? Dai, su, forza, scusate l'invasione di campo ma popola famiglia a famiglia, quindi insomma abbiamo a che fare con la dimensione familiare, dai amorino, su, vieni, fai un ultimo saluto a tutti, saluta, ciao, ciao, buona giornata, ci saluta anche Noè, il figlio di Carla Stefanini, un saluto a Franco Brindisi, a Emma Rosa Varotto, ad Antonio Queen, Sabino Sabini che è appena arrivato con Marco Fasulo, grazie al gruppo Prechera Popola Famiglia, e allora, dicevamo, una diretta importante, Marco dice, non è un'invasione, è una grazia, sì, è anche un'invasione, tipo cavalletta, diciamo, insomma, saluto Paolo Pasanisi Zingarello, saluto Maria Rosa Ferraresi, siete davvero tantissimi, intanto qui con l'invasione di Clara sono saltati tutti gli apparati, ovviamente, e cerchiamo di recuperare immediatamente gli strumenti del nostro lavoro, ecco qua, il bello della diretta, come dice Matilde Angioletti, esattamente così, questo è il bello della diretta, ho approfitto allora per chiedervi un mi piace, un condividi a questa diretta così particolare di oggi, e ce ne andiamo poi a leggere la buona notizia del giorno, ecco Francesca Patuzzi che manda dei cuoricini alla bellissima Clara, come Prisca Vigni, saluto Maurizio Fortuna Lazzaro, Natalina Minuz, Silvana Scuccia, Giuseppe William Larosa, Francesco Sorbello, andiamo allora a leggere, visto che siamo già in tripla cifra, in pochissimi minuti, nonostante le incursioni di Clara, andiamo a leggere la buona notizia del giorno, il Vangelo di oggi, il Vangelo di Giovanni, undicesimo capitolo, siamo ai versetti, 45-56, in quel tempo molti dei giudei che erano venuti da Maria alla vista di quel che egli aveva compiuto credettero in lui, ma alcuni andarono dai farisei e riferirono loro quel che Gesù aveva fatto, allora i sommi sacerdoti e i farisei riunirono il Sinedo e dicevano, che facciamo, quest'uomo compie molti segni, se lo lasciamo fare così tutti crederanno in lui e verranno i romani e distruggeranno il nostro luogo santo e la nostra nazione. Ma uno di loro, di nome Caifa, che era sommo sacerdote in quell'anno, disse loro, voi non capite nulla e non considerate come sia meglio che muoia un solo uomo per il popolo e non perisca la nazione intera. Questo però non lo disse da se stesso, ma essendo sommo sacerdote, profetizzò che Gesù doveva morire per la nazione e non per la nazione soltanto, ma anche per riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi. Da quel giorno dunque decisero di ucciderlo. Gesù pertanto non si faceva più vedere in pubblico tra i giudei, si ritirò al di là della regione vicina al deserto, in una città chiamata Efraim, dove si trattenne con i suoi discepoli. Era vicina la Pasqua dei giudei e molti dalla regione andarono a Gerusalemme prima della Pasqua per purificarsi. Essi cercavano Gesù e stando nel Tempio dicevano tra di loro, che ve ne pare, non verrà egli alla festa? Ed è la parola del Signore. Una pagina incredibilmente importante del Vangelo di Giovanni. La morte di Gesù spiegata da Caifa muore uno solo per la nazione e non per la nazione soltanto, spiega Giovanni, ma anche per riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi. Siamo alla pagina della spiegazione del giallo. Si dipana tutta la vicenda umana insieme alla vicenda di compimento delle scritture legata a Gesù Cristo. Si dipana in questo clima, un clima dove le parole vengano pesate, sempre con questa capacità di drammaturgia straordinaria. da quel giorno dunque decisero di ucciderlo. Avete presente come questa chiarezza drammaturgica segna un prima e un dopo. Prima ci sono fasi confuse, c'è tanto astio mescolato a tanta benevolenza, siamo alla vigilia della Domenica delle Palme, dell'ingresso trionfante di Gesù in città, ma c'è una decisione assunta. Decisero di ucciderlo. Nella dimensione drammaturgica del Vangelo c'è un saper dipanare le vicende con una tecnica, una tecnica di scrittura evidentemente ispirata, evidentemente che viene dall'alto, con una forza straordinaria, lo ripeto, anche dal punto di vista della scrittura, della sceneggiatura vorrei dire, scena dopo scena delle vicende che avvengono. Queste potrebbero essere di ispirazione a molti scrittori di oggi, anche a chi scrive oggi. Perciò sono capitato addosso a una fiction italiana, scritta da tal Ivan Cotroneo. Ivan Cotroneo è il campione della scrittura della fiction di Rai 1, oggi ovviamente esponente della lobby LGBT, perché ormai la Rai è in mano a questa lobby. Ovviamente nella scrittura di questa fiction che si chiama Sorelle, il cattivo chi è? È un attivista del Family Day, ma mi pare ovvio, no? Io chiedo veramente, ma questi di Rai 1, ma come gli viene in mente di non solo affidare la fiction principale della Rai, sta facendo milioni di ascolto questo Sorelle a un attivista LGBT, ma questo ormai ha occupato la Rai, tutte le principali fiction di Rai sono scritte da questo signore, da Ivan Cotroneo. E in più che fa l'attivista LGBT? Il ruolo del cattivo lo affibbia al militante del Family Day. Ma vi ascolto della fiction Sorelle. Ora, io sono veramente sconcertato, non so che dire, soldi pagati dal nostro canno, cioè da milioni di famiglie che hanno partecipato e sostenuto al Family Day, che vanno a pagare le fiction di Ivan Cotroneo, attivista LGBT che affibbia, come si fa la donna dei film americani, che ormai il cattivo è l'integralista islamico. Ecco, nella fiction di Rai 1 il cattivo è militante del Family Day. Mettete insieme questo con la tv berlusconiana che ci fa a non mandare a quel paese platealmente da J-Ax e da Fedez durante la puntata delle Iene, non c'è puntata in cui non ci sia insulto nei miei confronti, anche l'ultima ha previsto in copione l'insulto a Maria Di Nolfi. Adesso la fiction di Rai 1 in cui il cattivo è un militante del Family Day, fatemi capire, davvero, quando è che potremo reagire dicendo che tutto questo è una volgare, vergognosa ingiustizia, una volgare e vergognosa ingiustizia, una volgare e vergognosa prepotenza nei confronti di milioni di persone, milioni di persone che poi pagano il canone. Io in bolletta ho appena pagato 18 euro a Ivan Cotroneo, al signore Ivan Cotroneo, per la sua fiction, diciamo così, 18 euro in bolletta, come ce l'avete tutti voi perché ve li spalmano sulla bolletta elettrica. Questo è davvero qualcosa che considero intollerabile. Vi chiedo un mi piace e un condividi a questa diretta, in questo momento, per far sentire tutta la nostra indignazione, una grave indignazione nei confronti del servizio pubblico radio televisivo che si permette indegnamente e scorrettamente di affidare non solo all'attivista LGBT ogni fiction di successo di Rai 1, ma di far sì e di permettere a costui di disegnare come personaggio negativo la famiglia in genere, ma a questa volta addirittura il militante è il Femini Day. Oggi sulla croce, dice Giovanni Marco Tullio, a pagina 4 c'è il contenuto di una trasmissione surreale. È davvero così grave. Se continuiamo a subire, come dice Marco Tullio, sarà sistematico questo meccanismo. Lo ripeto, nella dimensione della cinematografia americana il cattivo è l'integralista islamico, ormai è sempre di questo genere. Tra l'altro cercano sempre di sfumare la questione religiosa ovviamente per non incorrere in problemi. Da noi proprio senza problemi mirano addosso al Femini Day, direttamente al Femini Day. Bobak Falamachi dice che è bello il ritorno al terrazzo, siamo i cattivi, non ci chiede nessuno, se non i già convinti, pochini, ma parlano di noi, allora tanto onore. Ovviamente capisco anch'io questo ragionamento, è vero, noi siamo visti come l'alternativa a quel sistema di pensiero unico e questo è anche un bene, può essere sicuramente anche un bene. È un bene quando leggiamo le percentuali dei sondaggi del popolo della famiglia, a crema al 9%, a verona al 15,5%, questo spiega come sia fondamentale però che il popolo della famiglia raccolga questi consensi, visto che la TV pubblica è gestita dalla politica e che la politica oggi consente questa vergognosa speculazione contro il Femini Day, è necessario avere consenso politico per modificare radicalmente gli equilibri anche nella gestione del servizio pubblico radio televisivo. Questo è un lavoro che dobbiamo fare, altrimenti saremo in mano a questi ragazzi. Oggi è giorno tragico, c'è stata l'attentata a Stoccolma, c'è stata la nottata con i missili Tom Hawk lanciati da Trump sulla Siria, qual è la risposta del mondo del bar del fico? Farsi un bel cartello con davanti Every Child is My Child, così gli attori della fiction italiana da Alessandro Gasman alla moglie di De Rossi, che io adesso chiamo moglie di De Rossi, che non mi ricordo come si chiama, Sara Bim Bum Bam, Sara Fem Bum Bam, quella lì insomma, che si fanno questo cartello, poi si accorgono, l'avano deciso evidentemente il giorno prima, poi si accorgono che questa cosa suonava come un appoggio ai missili di Trump, quindi di sera si mettono a fare dei comunicati per cercare di spiegare, no ma noi non siamo a favore di Trump, siamo contro qualsiasi intervento armato, perché la verità è che qui si scrive una cosa senza sapere di che si scrive. Alessandro Gasman, voglio spiegarti, dal bar del fico non si vede la Siria, non hai la minima idea di cosa sia un conflitto colossale e difficile come quello che da sei anni e mezzo bagna di sangue la terra di Damasco e te presenti col cartellino pensando che dicendo una cosa sui bambini, ovvia che chi di noi non è contro la guerra e contro la sofferenza dei bambini, però che serve? A farti pubblicità? Ti sei fatto pubblicità gratis? Tu Sara Bim Bum Bam, mettete la faccia da Davide di Donatello, vi presentate col cartoncino con l'hashtag? Con un conflitto che è complicatissimo? La soluzione è provare a capire seriamente, non provare a farsi pubblicità con la cortellesi che si presenta con gli occhiali così dice, vedete non mi sono acchittata per fare questo, non mi sto facendo pubblicità, quando è l'unica finalità è quella, lei, Kaseshmutniak, tutti quelli del Davide di Donatello, diciamo. Andate a parlare col Vescovo di Aleppo, noi abbiamo fatto questo, prima pagina sulla croce, abbiamo fatto parlare Jean-Baptiste Jean-Bart che è l'arcivesco greco Melchita di Aleppo e lì ti dicono ma siamo sicuri che quei bambini sono stati gasati da Assad? Siamo certi che non siano operazioni di propaganda? Secondo l'arcivesco di Aleppo è insensato che Assad abbia compiuto quel crimine e secondo l'arcivesco di Aleppo i 59 missili Tomahawk spediti da Trump sulla Siria sono un grave errore strategico. Allora mi interessa molto quello che ha da dire su questo argomento l'arcivesco di Aleppo che vive in loco tutti i giorni e tutti i giorni sta sotto le bombe a sostegno dei più deboli, molto meno, molto meno, credo che dall'appartamento al Torrino di Francesco Totti o di Sara Bim Bumbam si riesca a vedere quello che avviene in Siria. Semplicemente si cerca di farsi pubblicità, c'è quel tristissimo Franky Energy che ha fatto pure il piccolo video, poverino, non toccati i bambini. Ma è ovvio amici miei, ma che cavolo state dicendo? È una guerra con una posizione complica. Con chi state? Siete contro Assad? Benissimo. State con Trump? State con i missili di Trump? State con l'Isis che ha fatto l'attentato a Stoccolma ed è organizzata contro Assad? I missili di Trump hanno provocato quattro morti bambini, secondo fonti siriane. Oppure state con Assad contro Trump? Perché fino a ieri eravate contro Trump. Insomma, non capite nulla di quello che sta accadendo. Fate comunicati confusi. Cercate di farvi pubblicità triste, triste, sulla pelle di quei bambini e davvero dovreste vergognarvi. Tornate a fare gli aperitivi, tornate a farvi gli aperitivi, a non capire nulla di quello che sta accadendo. Noi tenteremo, continueremo a tentare di spiegare ciò che avviene davvero andando a chiedere alle persone che quotidianamente fanno la fatica terribile di stare lì, in quel luogo, a sostenere la popolazione locale in uno sforzo tremendo. Abbiamo, ripeto, in prima pagina sulla Croce di oggi ascoltato le parole dell'Arcivesco greco Melchita di Aleppo, Jean-Baptiste Jean-Barre. E forse è un po' più interessante che sentire Martina Colombari e Alessandro Gasman, diciamo così. in diretta dal Bar del Fico, con la loro campagnetta quotidiana sulla pelle, sulla pelle dei bambini morti. Si fanno pubblicità sulla pelle dei bambini morti. Con la faccia da Davide Donatello, quella impostata in termini attoriali. Signori, ma davvero pensate di andare avanti così? I vostri agenti saranno contenti di aver visto la vostra immagine impegnata per una causa civile, diciamo. Vabbè, questo è davvero quello che avevo in corpo quando ho visto quella vergognosa forma di esaltazione del proprio ego da parte di questi signori. Mi è venuto qualcosa di rabbioso da dire. Ieri tutti i media lisciavano il pelo al Trump, come dice bene Ninnarello. Il giorno prima Trump era il cattivissimo, non si poteva più parlare di Trump. Ovviamente in serata questi si sono accorti gli attori che avevano fatto una cosa filotrampiana, hanno dovuto fare il comunicato per dire ma no, no, noi vogliamo che la soluzione sia senza le armi. La guerra in Siria la risolviamo facendo un bel aperitivo dicendo basta guerra al Bar del Fico. È una via praticabile, intelligente, complimenti, congratulazioni. Chiedo davvero una riflessione anche a chi non ci condivide. C'è Fabio Alberti che dice sei un disagio vivente. Altro ieri addirittura Andrea Scanzi, un altro fenomeno, che ha 43 anni ha fatto un articolo sostanzialmente per dire che sono ciccione, che mi mangio l'equivalente del prodotto interno del Belize, una cosa del genere. Io comunque arrivo a 43 anni, Andrea, per scrivere articoli da terza elementare, per dire ciccione, ciccione. Ma che davvero fate? Questa è la grande firma idolatrata, mezzo milione di follower su Facebook. Ma che davvero fate? È davvero diventato così terribile il vostro livello intellettuale, culturale, anche per fare battaglie su temi importanti. Andrea mi ha contestato, Scanzi, la mia posizione sull'animalismo, io considero una follia contemporanea. Ma parliamo del tema, ma puoi andare lì dicendo ciccione? Io dico no, te puzzano i piedi. Che cavolo di dibattito costruite? Che cavolo di dibattito costruite? Ma che tristezza una vita costruita così? Che tristezza? Ma perché la mettete sempre su questo piano? Saluto Gloria Gallarelli, saluto Luciano Signorile, Claudia Brignoli, Bella Lavanda, Alessandra Tumino, insomma sì, sono ciccione, ma parliamo degli argomenti. Tu anche tu non sei del tutto, diciamo così, presentabile, caro Andrea Scanzi. Insomma, potrei dire mille cose, anche perché ti ho conosciuto da vicino, insomma. Potrei dire mille cose, mille. E me le tengo nel mio cuore, come direbbe, no? Il Vangelo rispetta a Maria. Saluto Giovanni Fiori, saluto Antonella Bagno, dice in prima elementare si scherzava in quel modo. Saluto Cinzia Gioia, ecco Vito Mastrobuono, Luca Cipriani. Si dice Brignoli, a Brignoli, scusami, Claudia Brignoli, l'accento sulla I, scusami Claudia. Saluto Sufian Fugali, dice come risolviamo il problema della natalità, con il reddito di maternità proposto dal popolo della famiglia. Saluto Alessandra Tumino, Andrea Lorenzutta. Allora, un mi piace, un condividi a questa diretta. Leo Fabio mi spiegano che fanno questi atteggiamenti ai miei confronti perché vogliono umiliarmi, quindi mettermi a tacere. Ma non sanno che abbiamo una frase nel Vangelo che dice beati coloro che verranno insultati nel mio nome. Massimo Paola Rosichetti Pellegrini, dice vabbè, il grande Aldo Fabrizio era il doppio di tema, nessuno gli ha mai dato del ciccione. Anzi, quando non si hanno argomenti, si attaccano le persone esattamente così. Saluto Carlo Manili, Stefano Sigali, che dice, hai presente quel posto chiamato Sfacelo? Ecco, siamo quasi a destinazione. Saluto Corrado Salonia, Barbara Del Conte che sottolinea l'Arcivescovo di Aleppo che è stato letto solo sulla Croce perché inevitabilmente poi se vuoi avere qualcosa di serio sulla Siria da leggere, devi leggere oggi il quotidiano La Croce perché altrimenti ti attacchi a Martina Colombari e Alessandro Gasman. è un po' poco come spiegazione. Saluto Antonella a Iuna. Anna Maria Alessandrini, che dice, parlano di risolvere il bullismo, poi per primo lo offendono come i bulli di terza elementare. è verissimo, questa cosa è vera. Brava Anna Maria Alessandrini. Saluto Anna Russo, Bobak Falamachi dice, sei ciccione ma bellissimo. Poi se piace a Silvia, chi se ne frega, a me in effetti mi tengo mia moglie e sto, come si dice. Saluto Leo Fabio, Fabio Cesari, meglio avere cervello come te, grazie. Roberto Bruno dice, ti aspettiamo ad Alessandria. Infatti devo scappare perché devo andare ad Alessandria, che è lontana. Oggi alle 4 parlo ad Alessandria con Don Damiano Cavallaro. Dunque ci vediamo lì perché devo andare di corsa a prendere il treno. Non peraltro, non voletemi male. Fate un mi piace o un condividi a questa diretta in cui abbiamo detto, credo, cose abbastanza rilevanti. Fatemi denunciare anche questo scandalo incredibile del giornalista che è davanti a Valeria Fedeli che dice, mi devi chiamare ministra. Dice, scusi ministro, subito, immediatamente. È un riflesso condizionato fantoziano del cronista che è davanti a qualsiasi potente si inginocchia. Purtroppo il signore era del sole 24 ore. Si è immediatamente inginocchiato. Monica Consiglieri dice, chi è il candidato sindaco a Genova? Si chiama Stefano Arrighi, ma lo ufficializzeremo nelle prossime settimane. Dicevo che questa cosa di Valeria Fedeli è gravissima. Ministro indegno, non dovrebbe stare lì. Ha mentito agli italiani, mentito sui titoli di studio. Un ministro di pubblica istruzione con la terza media non si è vista al mondo. Un ministro menzognero, meno che mai. E il nostro sistema giornalistico, mi devi chiamare ministra, subito si inginocchia, davanti al diktat. Scusi, scusi, vorremmo invece un sistema giornalistico con la schiena dritta. Oggi sul quotidiano La Croce, prima pagina, trovate il nostro editorialino proprio su questo tema. Fatemi dire che su quotidiano La Croce di oggi l'editoriale lo firma una persona che si chiama Andrea Fratini ed è, pensate, un ateo, diciamo un agnostico, va? Un agnostico di formazione cattolica, ma ormai disinteressato. Un divorziato, uno che però sostiene le posizioni del popolo e della famiglia pur non venendo da una posizione di natura religiosa. E' importante questo, l'editoriale di oggi sulla Croce firmato da una persona lontana dalle nostre convinzioni religiose che però dice che il PDF è l'unica scelta ragionevole. E' importante, noi ampliamo sempre di più i confini. C'era uno scrittore omosessuale che si chiama Giorgio Conte che ieri faceva la sua iniziativa con il popolo e la famiglia a Forlì. Quindi chi ci dice che siamo contro gli omosessuali o siamo un partito confessionale trova queste risposte. Editoriale della Croce, di una persona che non crede, lo dice chiaramente, ieri a Forlì, a Rimini, scusate, iniziativa di uno scrittore omosessuale con il popolo e la famiglia. Certo, non avranno la rilevanza che c'è oggi su una paginata intera di Repubblica i cosiddetti cristiani LGBT del cammino di speranza che chiedono alla Chiesa di modificare la dottrina per legittimare l'atto omosessuale dicendo che devono entrare dentro la Chiesa. Tutti siamo nella Chiesa con i nostri peccati, ma i peccati restano peccati, amici omosessuali. I peccati miei, come i peccati vostri. Non possiamo andare da papà e dire adesso cambia le regole dell'educazione perché io sono un discolo. Noi rimaniamo con le nostre zoppie cercando di correggerci il più possibile ma non possiamo chiedere alla Chiesa di modificarci secondo le nostre esigenze. Questi chiedono una modifica della dottrina ed è davvero qualcosa di incredibilmente tracotante, di incredibilmente... Dicevo, protagonisti di pratiche di utero in affitto, signori che fanno la pratica e l'utero in affitto e pretendono che la Chiesa corregga se stessa perché deve accogliere loro. La Chiesa accoglie tutti, la Chiesa accoglie tutti con le loro difficoltà, la loro fatica, ma la Chiesa è un modello cristologico di perfezione. Ragioniamo su questo in questo tempo di Quaresima per liberarci dai nostri pesi, non per chiedere alla Chiesa di essere indulgente nei nostri confronti. Una Chiesa che fosse indulgente, che accettasse semplicemente di cancellare il peccato, di cancellare il peccato, non sarebbe Chiesa, non sarebbe i Mago Cristi. E allora cerchiamo di essere seri, abbiamo i nostri limiti, cogliamoli come limiti e chiediamo nel nostro rapporto con la Chiesa il superamento di questi nostri limiti, non l'adeguamento della Chiesa ai nostri limiti. È davvero fondamentale questo. In questo poi è apertura massima, ovviamente a tutti, ma la cancellazione del peccato non è la via, non è la strada, non è che ci devono dire fate bene. Cristo dice all'adultera, dopo aver detto chi è senza peccato scagli la prima pietra, dice va e non peccare più, va e non peccare più, non dice continua a fare come di pare. Dobbiamo avere chiaro questo elemento, dobbiamo avere chiaro, non è accettabile la paginata di oggi di Repubblica. Anche per il rilievo che si dà a qualcosa di oggettivamente marginale. Che sia davvero questo tempo di Quaresima, non ci sentiremo e non ci vedremo, per Stampe Vangelo, neanche Corcodiano e la Croce, che sia davvero questo tempo di Quaresima, un tempo di riflessione sui nostri limiti per andare incontro a una dimensione di perfezione e bellezza quale ci offerta l'incontro con Cristo. Non chiedendo a Cristo di sporcarsi per diventare come noi. Cristo si avvicina a noi, ci incontra, ci abbraccia, ma non possiamo e non dobbiamo chiedere a Dio di diventare limitato come un essere umano fragile e peccatore quale noi siamo. Non possiamo chiedere a Dio di farsi peccatore. Dobbiamo guardare a noi a questa grandissima occasione di redenzione che è l'incontro con Cristo per superare il nostro limite e il nostro peccato. Questo è quello che dobbiamo chiederci nella Settimana Santa che va ad aprirsi ed è il lavoro che dobbiamo compiere intanto su noi stessi. Un augurio davvero per una Settimana Santa importante. Vi chiedo un mi piace e un condividi che queste parole, se sono utili, possano giungere a più persone possibili. Noi ci ritroveremo martedì 18 aprile in diretta con Stampa e Vangelo e martedì ritorneremo anche in redazione col quotidiano La Croce. Christus vincit, dice Claudia Brignoli ed è giusto che questo sia il nostro grido Viva Cristo Re, Cristo che regna anche sulla morte ed è il fondamento della nostra fede. sarà una domenica di Pasqua davvero importante e bella se sapremo affrontare la settimana della passione morte di Gesù Cristo utilizzando per guardarci dentro e uccidere i nostri peccati la nostra incapacità di essere perfetti come Cristo è perfetto e immagine del Padre. Grazie davvero a tutti voi grazie a chi sottolinea la bellissima maglietta azzurro velo di Maria lo chiamo io questo perché avendo alle spalle la deposizione forse la vedete, sì la deposizione di Cristo dalla Croce ho voluto uniformarmi anche nel colore di questa mattinata al velo di Maria che soffre davanti al figlio che muore che è la sofferenza vera che posso immaginare delle mamme che hanno avuto i bambini uccisi in questi giorni in Siria che è la sofferenza a cui rivolgiamo il nostro occhio piangente ma veramente sofferente non per scena o per copione sapendo che nell'immagine di Maria che accoglie il figlio morto sulla croce c'è la sofferenza di ogni madre e c'è tutto il dolore del mondo buona settimana santa a ciascuno di voi ci ritroviamo martedì 18 martedì 18 aprile e davvero vi chiedo mi piace un condividio a questa diretta che è un po' particolare un po' più breve delle altre perché scappo verso Alessandria chi vuole ci incontra oggi ad Alessandria a sostenere le liste del popolo e della famiglia per le amministrative in quel del profondo Piemonte e leggetevi l'editoriale sulla croce di Andrea che non è un uomo di fede ricordatevi Giorgio Monte scrittore omosessuale ieri ospite del pdf di Rimini continuare a seguire Gianfranco Amato che anche oggi è in terra di Puglia e farà un'altra iniziativa in terra pugliese Mirco De Carli sarà a Parma e poi a Civitanova Marche siamo davvero tutti spesi in una serie di mobilitazioni per le elezioni amministrative ma fondamentalmente poi nel cuore siamo cristiani persone in cerca persone in cammino che domani con la Domenica delle Palme e poi per tutta la Settimana Santa sapranno riflettere su se stessi sui propri limiti sulle proprie incapacità dimensioni di peccato affinché siano superate e redente dall'incontro con nostro Signore Gesù Cristo domani di noi una buona giornata a tutti buona Settimana Santa ci ritroviamo lo ripeto martedì 18 aprile per le riprese delle trasmissioni qui su Stampe Vangelo buona giornata a tutti voi